Dottor Teodoro L'ho già incontrata, per caso, per caso lungo la strada, mi fa davvero molto piacere Certo, ci siamo visti mentre venivo da Buenos Aires, ricorda? Che meraviglia, è una sorpresa molto simpatica il fatto che voi vi conosciate Ma si sa che i giovani sono sempre pieni di sorprese Proprio simpatico, eppure divertente Allora, Antonio, ascolta, la signora ha chiesto un caffè espresso e il dottore chiede un whisky E la guagliore chiede di conoscerti E allora fatti conoscere, su, andiamo, Antonio Certo, ho detto che mi farebbe piacere conoscerla Non so, prendiamo un po' d'aria? Certo Ecco, potremmo passeggiare, parlare un po' Ehi, Antonio, accompagna la signorina a vedere la fattoria Ma non la portare dentro il granaio No, perché lui nel granaio, lui, lui, lui ha portato una gran quantità di materiale per la fattoria E potrebbe cadere qualcosa Non preoccuparti, papà, porterò la signorina a vedere il giardino Ecco, bravo, molto bene, intanto io porto il caffè alla signora E porto il whisky per il dottore Faccio subito Sì Se vuole Scusateci, con permesso Mi scusi Mi... mi ha detto qualcosa? Oh no, no, niente Non ho parlato Al contrario, non volevo disturbare i suoi pensieri Beh, però dovremmo pure parlare, no? Chi? Noi? Ah, a proposito Io volevo ringraziarla per il fatto che non ha raccontato niente a nessuno di quello che è successo Mi sarei sentito imbarazzato con suo padre, sua madre, mio padre E non sapevo come giustificarmi con lei, mi capisce? Come avrei potuto giustificare il fatto di averle causato un bagno di fango Comunque anche per me sarebbe stato un po' difficile spiegare che... Che in seguito le ho dato una frustata Sì, lei era molto furiosa, proprio furiosa Sì, ma avevo dei motivi per essere Sì, lo immagino, forse me lo meritavo Ma confesso che non me l'aspettavo Sembrava che lei avesse un diavolo per capello Sì, veramente Ecco, avevo dei problemi miei Ma adesso però vorrei approfittare di questa occasione per scusarmi Cosa? Lei chiede scusa a me? Sì, è chiaro Oh no, 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 no Assolutamente Sono io che devo chiedere scusa a lei, signorina Laura Ecco, mi spiego Io non volevo davvero che lei ritornasse indietro con la sua macchina Ma le ho chiesto di farlo perché sapevo che mancava la gomma paraspruzzi alla ruota Sì, la gomma che è vicina alla ruota e che se c'è fango impedisce che questo vada addosso alle altre macchine Purtroppo il meccanico si è scordato di metterla e io non l'avevo visto Mi creda, mi dispiace molto La prego di volermi scusare Le chiedo... Le chiedo perdone No, non c'è stato nessun problema E poi mia zia Milù credeva che io avessi fatto un bagno di fango medicinale Come fango medicinale? Sì E esiste davvero? Oh, ma certo, certo, è chiaro Esistono tante di quelle cose in questo mondo Ma veramente non sapeva che potesse esistere una cosa simile? Sì, certo Capisco che lei può anche pensare che io sono quello che sono, un contadino Tutti dovremmo essere un po' contadini, no? Io penso che, non so, quello che apprendiamo, quello che studiamo, che sappiamo, quello che vediamo Insomma, alla fine dei conti cerchiamo tutti l'antico anche nel nuovo E forse è per questo che io credo che in ognuno di noi ci sia un'anima di contadino E allora, com'è andata? Tutto bene, tutto bene Sì, veramente È stata una vera sorpresa, sai Laura? Non sapevo che tu conoscessi quel ragazzo È vero, Laura, non ci avevi detto niente, come lo conoscevi? L'ho conosciuto per un meraviglioso bagno di fango Come? Questo è il dolce e bel giovanotto, cara zia Milù, che mi ha infangata mentre arrivavo Ah, è il ragazzo del fango medicinale Sì, proprio lui Cosa state parlando? Quello che tua madre e mia madre e bene tutta la famiglia andava a prendere giù al carruel Un fango molto buono per la pelle Aveva un solo difetto Manchiava tutti i vestiti Sì, Laura, so come ti senti ora, ma sarà per poco tempo No, no, papà, non ti preoccupare, mi sto abituando all'idea Laura, voglio soltanto avvertirti di una cosa Io tra circa un paio di giorni tornerò a Buenos Aires Laura Ma per compensarmi di quello che sto facendo per voi, alla fine voglio tornare in Europa Laura, Laura, di questo ne riparleremo Ma quando tutto sarà a posto Farò quello che vuoi, questo te lo prometto Ehi, Tonio Che c'è? Che fai? Ti è piaciuta la ragazza? Sì È bella Bella? È bella, fine, educata E con un nome importante Hai visto come tuo padre pensa al tuo avvenire, eh? Papà, e se io invece non piacessi alla ragazza? Non piacere, non piacere, Tonio Questa è un'altra cosa L'importante è quello che vogliamo noi Ascolta Io tengo i soldi La nostra fattoria prospera Ho comprato due o tre terreni E se volessi Potrei comprare anche tutta Santa Regina del Dottor Teodoro Perché a me sembra che corra il pericolo di perdere tutto Ma io Tengo in mente un'altra cosa Vi ho deciso di entrare nell'alta società E voglio un nome rispettabilissimo Perché questo è quello che conta al giorno d'oggi Ah Importa molto? Sì E dimmi una cosa Sì Perché importa? Beh, per molte cose Anche per le banche della nazione Perché tutta questa gente dell'alta società Può avere molte facilitazioni con le banche Ottiene dei prestiti Insomma, fa e disfa Io per esempio Vado in banca per un prestito Non me lo danno E allora capisci A che serve avere il denaro? E non essere nessuno nella società senza relazioni Perciò io voglio amici di nome Io però dico... Che? E se... Se per caso a me lei non piacesse Piacere, non piacere Tonio, non dire stupitaggini Sai che cosa ti dico? Che l'amore viene con il tempo Guarda che è importante quello che io ti sto dicendo Io ho trovato una ragazza Che ti farà invidiare da tutto il mondo Già È molto carina Carina? Sì E con un nome assai importante Che le donne che hanno un buon nome Presto o tardi Portano denaro dentro casa E se non portano denaro Portano il prestigio E il prestigio Nelle mani di gente intelligente Finisce col portare Denaro Però... Che c'è? Se tu avevi per la testa l'idea di farmi sposare con una ragazza così Molto, molto bella Molto fine E tanto differente da noi altri Perché non mi hai fatto studiare? Oh, ma cosa dici studiare? Perché? Noi abbiamo i denari Tu guarda me Io non ho studiato E guarda dove sono arrivato Tonio Ricordati di questo Io voglio arrivare molto, molto in alto Buongiorno signora Buongiorno signore Chi desidera? Ecco, io ho portato questi fiori per la signorina Ah, i fiori Che simpatico Ma lei chi è? Io abito alla casa al di là del prato Ah, lei lavora nella fattoria di donne Eulalia Beh, sì, io vivo lì Ah, ora credo di aver capito Lei è il ragazzo del fango Del fango minerale di Araxi Come? Non è stata lei a inzuppare Laura di fango Ah, sì E mi sento morire signorina, sì Glielo ha raccontato lei Beh, tra noi non abbiamo segreti E potrebbe per caso anche dirmi se... Se lei è ancora arrabbiata con me o no? No, credo di no Ma fa finta di esserlo però Sono convinta di ciò che dico E come fa a saperlo? Oh, perché sono una donna E noi altre donne ci capiamo, lo sa Ci sono molte cose che noi sappiamo Senza che nessuno ce le dica Per esempio io Io so che lei ha accolto questi fiori Con molto sentimento Perché sono per Laura Ma lei è una maga Una maga? Siamo tutte un poco indovine Ma... Ma... Però io devo dire che non comprendo Questa si potrebbe considerare una mancanza di rispetto Io... Io credo che lei non abbia considerato una cosa Mai Un pass Hernández Aguirre è stato protestato Ascolti, io le chiedo soltanto 48 ore di tempo Il tempo sufficiente per arrivare a Buenos Aires Sì, 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 lo capisco Io capisco che lei è un semplice impiegato Ma per favore, chiama il direttore Come? Bene, sinceramente Io sarei molto dispiaciuto davvero Se quel titolo fosse protestato Bene Almeno fino a domani Lo garantisco io, sì A domani, grazie Che succede? Quel titolo di 800 milioni Domani sarà protestato Dio mio, Teodoro, è tremendo Che possiamo fare? Ci vuole un fido della banca Ho bisogno di un prestito Prestiti, prestiti, prestiti È una parola che mi sta dando la nausea Prestiti Se tu non ti senti soddisfatta Perché non sei d'accordo per il divorzio? Almeno adesso potremmo dividerci qualche cosa I debiti I tuoi debiti Mia cara, quando io ti ho sposato Ho assunto i debiti della tua famiglia Non mi sembra il caso di discutere su questo Di piuttosto che nella tua famiglia Non amerebbero avere donne separate oppure divorziate E tu credi che non voglia separarmi solo per questo? Pronto? Centralino? Vorrei avere Buenos Aires Sì, voglio parlare col banco argentino Per favore, Teodoro A quest'ora non troverai nessuno e nessuna banca È almeno una cosa Fai queste telefonate dalla biblioteca Abbiamo degli ospiti Hai ragione, c'è Tatiana E se non riesci ad ottenere un prestito Che potremmo fare? Allora non ci sarà altro rimedio che ricorrere a chi sai bene Capisco, capisco dottore Capisco che lei ha un'ispezione in banca Però mi occorre una settimana Esatto Lei sa che una situazione del genere può capitare a chiunque in affari Buongiorno Buongiorno, Tati Credo di aver dormito un po' troppo Non ha nessuna importanza Quando si viene in campagna ci si viene anche per riposare Buongiorno, mamma Come stai, tesoro? Bene, molto bene Oh, buongiorno, signorina Milù Oh, buongiorno, Eulalia Ah, Sia Milù Questa è Tati Tatiana, la figlia di Oreste Oh, ma certo Vedi, io avevo un'amica che si chiamava Eulalia E viveva in una fattoria qui vicina Io le do il permesso di chiamarmi come più le fa piacere Oh, meno male Perché credo che seguiterò a chiamarti Eulalia Bene, bene Adesso andiamo a preparare la colazione Io no, mamma Non ho fame perché Sia Milù mi ha portato a letto Latte, caffè e biscotti Ah, che cosa fantastica L'hai fatto davvero, Sia Milù? Sì Quando io ero piccolina Mi piaceva moltissimo bere il latte molto all'alba Tiepido, profumato Con i biscotti ancora caldi come erano buoni Oh, a proposito, Lauretta Questa mattina, molto presto È giunto un elegante giovanotto a cavallo E ha portato questi fiori per te Per me? Un grazioso mazzetto di fiori di campo Freschissimi, odorosi Come un sentimento Appena tolte alla terra Scusa, Sia Milù Tu riesci a vedere tutte queste cose in quattro fiori, eh? E chi te li ha portati? È solamente un contadino Ora li getto nell'immondizio No, no Non gettarli Sono tanto graziosi Se ti piacciono tanto, allora tienili tu Bene Ma se adesso mi prendo i fiori Dopo posso prendermi anche il ragazzo D'accordo, ti autorizzo ad approfittarle Sia Milù parla di un ragazzo Che ragazza? Oh, è soltanto un gioco della zia Vieni a fare colazione, Tati Ci vediamo più tardi Perché si comporta così? È un bel giovane, non ti sembra? Ah, Sia Milù Tu sei davvero molto buona E vedi le cose a modo tua Oh Sarà anche un bel ragazzo, però Purtroppo è anche molto rozzo, sai? E allora? Bisogna ricorrere all'italiano Che rabbia Cosa stai facendo? Ma come? Tento di migliorare il mio aspetto, però... Perché? Come perché? Tu lo sai meglio di me, no? Se è per... Per la figlia del dottor Teodoro Sì Non ti preoccupare, Donio E perché non devo preoccuparmi adesso? Perché la figlia Lei Ti vuole in qualunque maniera E tu come lo sai? Lo so Io conosco bene la gente Ho esperienza È in casa il signor Sandro? Sì Lo avverta che sono qui Sì, signore Entri, per favore Grazie Questo sì che è un piacere Ma non pensavo che avrei avuto l'onore Di ricevere già un'altra vostra visita Lei è stato talmente gentile ieri Da farmi abusare della sua ospitalità Io lo so perché siete venuto Siete venuto per il Chianti Quel vino è una meraviglia Esattamente Guanita Prendi dalla cantina una bottiglia di vino Chianti E porta pure due bicchieri, eh? Venite, dottore Venite Grazie Ma che bellezza Assettatevi, dottore Vi devo dire Che è un piacere ricevervi qui Una persona tanto importante come voi In una casa Tanto modesta Come la mia Alla salute Alla sua Molto bene, dottore Parliamo francamente? Io lo so Che se voi siete venuto da me Voi siete venuto Per una cosa molto importante Un motivo preciso Parlate pure Sì, è la verità Ho qualche problemino Ho emesso un pagherò a favore del banco Bene, come sai Io sto aspettando il prestito agricolo del Banco della Nazione Però lei sa come vanno queste faccende Ci sono sempre complicazioni Riassumendo A voi vi occorre denaro Sì Per questa emergenza Però vorrei che lei fosse tranquillo Ah, certo Quando appena potrò pagherò tutti i miei debiti che ho con lei Sì, certo L'ho capito, l'ho capito Ma io penso che voi Non ve la dovete passare molto bene E io non conosco i debiti che voi tenete con il banco No, ma i debiti che tenete con me li conosco Io stavo pensando se... Se la tenuta Santa Regina Può coprire tutto Mi perdoni, signor Sandro, però La tenuta Santa Regina Non può coprire niente Ma ho beni sufficienti per coprire questo e molto di più Certo, ci credo, certo Però quello che non capisco È che quando un uomo tiene dei beni Tiene credito E se tiene credito Va alle banche A chiedere i soldi E non viene nella casa di un contatino ignorante come me Beh, sinceramente no Però adesso si tratta di un'emergenza, già gliel'ho detto Ah, sì Altrimenti avrei fatto come dice lei Sì, certo, ma dato che siamo amici Certo Permettete che riempio E dato che siamo amici e c'è la possibilità di diventare parenti Ma voglio farvi una domanda A voi, questa volta Quanti soldi servono? Ottocento milioni È una bella cifretta, eh? Solo per pochi giorni, le assicuro Certo Questa è un'emergenza Ma se scoppia, questa cosa sembrerà una bomba Ma solo perché perderei il mio prestigio La mia reputazione di fronte alle banche Certamente, dottore Certamente Però quando si chiede denaro Non conviene mettere molta fretta Perché chi ha fretta inciampa E non dimenticate quell'altra cifra Dei soldi che vi avevo già prestato Ma non importa Io sono disposto ad aiutarvi di nuovo Lei è un amico Sapevo che non mi ero sbagliato Certo Non avevate sbagliato Però non lo faccio per gentilezza Io chiedo qualcosa in cambio Voi penserete che agisco per la felicità di mio figlio No, non lo faccio per questo Noi altri due già abbiamo parlato di tutto questo Però ho l'impressione che voi vi chiedo scusa Non avete capito E allora farò in modo Che capiate bene Il problema È che io Amerei entrare nel vostro mondo In quel mondo che si chiama Nell'alta società Ma che sarebbe più giusto chiamare Nell'alta possibilità di affari E a me sembra Se voi mi permettete Che la cosa più pratica Per entrare in questo mondo Sia maritare vostra figlia Laura Con mio figlio Antonio Bene Dottore Qua dentro Quello che state vedendo Sono titoli Al portatore E qui Io tengo modestamente Una grossa quantità di dollari È moneta americana Franchi svizzeri E come voi vedete È una grande fortuna E tutta questa fortuna È a vostra disposizione Io Vi voglio fare una proposta Io vi presto il denaro E voi mi date Un documento Un paverò O uno check Senza data E se voi Non convingete Vostra figlia A sposare Mio figlio Antonio Beh Io mi vedrei obbligato A denunciare Il documento A protestarlo Come vi pare La mia proposta L'accetto Il compromesso Possiamo già stenderlo E per quanto riguarda La data del matrimonio Pensa che vada bene Tra qualche mese Io non vorrei Che si facesse Nessuna maldicenza Certamente Comprendo È di mio gusto Siete un uomo Che ragiona Come faccio io E quando Ci sono persone Che ragionano Tanto obiettivamente Meritano D'essere parenti